Le misure restrittive del governo sono particolarmente limitative. Sono necessarie per tutelare la salute pubblica dei cittadini anche nell'ambito dei servizi pubblici, dove si rischia la pararesi per il numero crescente di contagi. Gli interventi poi sugli over 50 sono a tutela di categorie spesso fragili, spesso se non vaccinate. Quindi si tratta di portare pazienza per un periodo per cercare di affrontare questo contagio particolarmente alto in questo momento, che vede il record di contagi in Veneto e in particolare a Vicenza.